Gen di Hiroshima è la storia di un bambino sopravvissuto allo scoppio della bomba atomica ed è una storia vera. Il 6 agosto 1945 l'autore, Keji Nakazawa, aveva sei anni e viveva ad Hiroshima. Adashinogen è una storia autobiografica, è la storia della mia infanzia. Perciò ho soltanto messo per iscritto la realtà. Ho raccontato come era composta la mia famiglia, il contesto nel quale vivevamo, quello che ci è successo. Tutto questo sotto forma di fumetto. Nessuna macchina fotografica è sopravvissuta alla bomba atomica. Questi disegni sono il racconto di un testimone. Questo è ciò che ha visto. E questo è ciò che ha provato. In giapponese, gen significa origine, fonte. È il gen della parola genso, che significa elemento chimico, cioè l'elemento alla base di tutte le cose. L'ho chiamato gen perché sia fonte di forza per le nuove generazioni. Adashinogen. Adashin vuol dire a piedi nudi, perché dopo che tutto è stato ridotto in cenere dalla bomba atomica, il protagonista cammina a piedi nudi sulla terra. Ho voluto che camminasse a piedi nudi per rendere più intenso il momento che sta vivendo, con la speranza che si possa costruire un mondo senza guerre. L'umanità non deve dimenticare il passato. Dopo aver vissuto personalmente l'esperienza della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, noi che siamo autori di un mezzo di comunicazione accessibile a tutti, il manga, abbiamo il dovere di continuare a raccontare al mondo gli orrori della guerra e delle armi atomiche. La storia spesso si ripete, purtroppo gli orrori della guerra vengono dimenticati. Noi abbiamo il dovere di lavorare al mantenimento della memoria collettiva per sensibilizzare la gente. C'è sempre un tentativo di raccontare la bomba in un contesto scientifico. Ma Gen di Hiroshima ci racconta la capacità umana di resistere alla sofferenza. Non c'è nulla di nuovo, ma in questa forma anche un bambino può comprenderlo. Gen significa origine in giapponese e questo libro è alla base dei fumetti documentaristici di oggi. Pubblicato nel 1973, è stato fra i primi manga tradotti e distribuiti in tutto il mondo. L'ultima edizione ha una splendida introduzione del fumettista che aveva già raccontato gli orrori della seconda guerra mondiale. Art Spielman Grazie a tutti.